Quello che ci interessa non è parlare, affatto, niente affatto, quello che ci interessa è che si riesca a dare un colpo di timone, avendo stabilito chiaramente la rotta, alla nave Italia. Dovete immaginare quale soddisfazione abbia avuto mentre venivo qui, sono veramente entusiasta nel sentire i nomi di questa squadra, che più che squadra questa qui, questo è un equipaggio.